direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi martedì 20 febbraio il jackpot ha raggiunto la cifra di 102 milioni 28 mila 825 euro le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 22 inizia il mescolamento automatico delle sfere siamo per scoprire se i numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero primo numero estratto è il numero 52 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 25 il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 75 pronti per il quarto numero? il quarto numero estratto è il numero 17 adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 67 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sestina vincente il sesto numero estratto è il numero 55 dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo ora l'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme ai cinque numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 90 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione il numero jolly il numero jolly è il numero 90 e ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite super analotto fino a 100 volte premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? il numero superstar di questa sera è il numero 57 ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 22 in ordine crescente 17 25 52 55 67 75 numero jolly 90 superstar 57 e l'estrazione di oggi martedì 20 febbraio termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate ci rivediamo fra poco per scoprire se il jackpot di oltre 102 milioni di euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 22 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del super analotto assegna 414.346 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 102 milioni di euro sarà stato centrato il 6 questa sera al 6 di super analotto non è stato realizzato il jackpot crash ancora per arrivare a... 103 milioni 100 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6, nessun 5 più 1 i 5 sono 4 e vincono 47.996 euro ciascuno i 4 sono 629 e vincono 325 euro ciascuno i 3 sono 23.782 e vincono 25 euro ciascuno i 2 sono 356.940 e vincono 5 euro ciascuno e in questo concorso sono state assegnate ben 14.027 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 3 e vincono 32.512 euro ciascuno i 3 stella sono 127 e vincono 2.512 euro ciascuno 100 euro vanno i 1692, 2 stella 10 euro i 9944, 1 stella e 5 euro i 21.225, 0 stella vi ringrazio per essere stati con noi su per una lotta vi dà appuntamento a giovedì 22 febbraio e giocheremo per un jackpot di 103 milioni 100 mila euro arrivederci